Atto primo ieri sera dei 50 anni della Fulgor Castelfranco al Teatro Capodaglio, presenti anche nomi illustri come Maurizio Sarri, Damiano Tommasi e Daniele Tognacini, oltre che i padroni di casa, per l'inizio dei festeggiamenti che poi si protrarranno anche in un fine settimana a giugno. Ci aspettavamo questa risposta perché sapevamo di contare sulle persone, poi chiaramente ci sono anche gli impegni istituzionali che loro hanno e che non sempre è possibile magari indipendentemente dalla loro volta, ma l'importante è che siano degni rappresentanti di quello che è anche il nostro obiettivo, che è quello di attraverso lo sport di poter raggiungere anche altri elementi, l'obiettivo della persona, dell'educazione e della formazione. Non saremo sicuramente ottimali in questo, ma perlomeno sicuramente ci proviamo e per noi è importante, come è importante la storia della Fulgor Castelfranco in questi 50 anni, che ha rappresentato una bellissima realtà all'interno del tessuto sociale. Per noi è un grande motivo di soddisfazione, anche se è chiaramente una piccola società, ma noi cerchiamo di renderla grande. Non esistono società piccole. È vero, sono d'accordo, perlomeno a livello di dimensione territoriale, ma sicuramente non per gli ideali che ci siamo prefissati. La Fulgor è molto molto importante, è stata importante nella mia crescita perché ha fatto comunque un'esperienza molto bella, con persone straordinarie che stasera ho avuto la fortuna di rincontrare e di poter abbracciare così come facevamo 30 anni fa ormai. 50 anni di una società dilettantistica è comunque un traguardo per il calcio in generale perché vuol dire avere continuità di presenza sul territorio, creare un tessuto sociale attorno allo sport è sempre positivo e poi non è vero che è lontano da quello che rappresento, visto che dal 2000 la Sessione Calciatori rappresenta anche tutto il calcio dilettantistico e quindi fa parte del nostro compito. Un battuta velocissima, sarà la stagione della rivoluzione con le seconde squadre Lega Pro? Ma i progetti veri non si possono vedere come risultati nel brevissimo termine. Maurizio Sarri è ancora tesserato Napoli, non può rilasciare interviste così però abbiamo potuto cogliere il suo saluto alla Fulgor. Le realtà di società dilettanti che poi a tratti hanno fatto anche i professionisti o alcuni a Valdarno sono tutte realtà che sono state realtà importanti se penso alla mia generazione. Ci hanno fatto crescere in maniera vera, sana, seria, rispetto delle regole, rispetto dei compagni e quindi tanta tanta roba e penso sia così anche adesso. La base e l'essenza del calcio e dello sport è in queste società. Grazie a tutti.